L'imperatore, come sapete, è sceso in Italia su sollecitazione degli Sforza di Milano. L'intento è di avere per sé il dominio di ogni territorio conquistato. Il nostro appoggio, però, secondo gli accordi presi da un nostro ambasciatore presso il vostro governo, avrebbe avuto in contropartita l'attività portuale nel porto di Livorno. Pertanto, a chi rappresento, non importa certamente il dominio territoriale. Non credo che i governi delle città di Genova e Pisa lo pensino come voi. Infatti, noi siamo d'accordo che il dominio su Livorno sia dato solo all'imperatore Ausgurcio. Ciò ci darà garanzia che le nostre navi avranno libero attracco nel porto di Livorno. Anche il nostro governo è dello stesso avviso, ma sta di fatto che ancora non abbiamo conquistato niente. I soldati iniziano ad essere stanchi di questa guerra. I soldati iniziano ad essere stanchi di questa guerra.